Pronti? Proseguo a ve le spiegate l'estate del quarantesimo anno di vita dell'SD San Lorenzo. Il centro estivo gratuito ha fatto il tutto esaurito. Erano previsti 40 iscritti, sono stati accettati 66 bambini, ma le richieste erano oltre quota 100. Abbiamo dovuto chiudere, come dico il numero preventivato era 40, siamo arrivati 66, poi di lì abbiamo dovuto fermarci, se proseguivamo probabilmente avevamo un ragazzo per ogni metro quadrato del campo. L'apertura del campus estivo con Don Davide, che pantaloncini corti, maglie del San Lorenzo e scarpe da calcio, si è allenato con i bambini, rispolverando qualche colpo del suo repertorio, a ottimi trascorsi calcistici. E venerdì prossimo, 6 luglio, scatterà il torneo San Lorenzo sotto le stelle, per i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni, anche in questo caso ad iscrizione gratuita.